I cartelli installati sabato scorso indicano l'avvio dei lavori lungo Viale Dante Alighieri. Verrà installato questa settimana il cantiere per la riqualificazione dei parcheggi lungo tutto il tratto stradale. Addio dunque la disposizione a spina di pesce. Dopo le richieste dei residenti, l'amministrazione ha progettato un nuovo ordine delle soste auto che resteranno gratuite. Partiranno da lato sud e mano a mano andranno verso nord, quindi ci potrebbero essere dei disagi sulla viabilità, però questo cantiere durerà circa 3-4 settimane in cui si riorganizzerà la sosta lateralmente in linea con il senso di marcia, sia a destra che a sinistra e si rigenererà un pochino il marciapiede, i percorsi piedonali laterali. Con dello stabilizzato in modo che comunque sia più fruibile per tutti, anche per i meno abili. Infatti con questo nuovo intervento, per un importo di circa 100.000 euro, si migliorerà la sicurezza del viale con un occhio di riguardo per ciclisti e pedoni costretti ad occupare la carreggiata per colpa delle auto parcheggiate selvaggiamente. Per chi usa la bici sarà consigliato il passaggio verso nord dalla pista ciclabile di viale adriatico, mentre per il ritorno, quindi verso sud, si potrà passare per quella di viale a Lighieri, termine dei lavori entro la stagione estiva. In questo momento quella zona è organizzata in una maniera un po' anarchica, quindi c'è un parcheggio selvaggio dove spesso capita, abbiamo la mentele anche dei residenti che le macchine parcheggiano davanti agli accessi pedonali o davanti agli accessi carrabili. Quindi in questo modo vogliamo dare un senso alla viabilità, i parcheggi non diminuiranno di tanto, appunto abbiamo fatto questa scelta di lasciare sia a destra che a sinistra la sosta e la velocità sarà una zona 30, quindi le macchine comunque saranno incentivate ad andare più piano e in questo modo speriamo di dare più decoro a tutta quella zona mare.